ho fatto buttare santo basta vai divideteli ricky con lorenzo e paolo contro mirco coppa davis due singoli doppio due singoli così e chi vince contro me alfo un po' di lorenzo io ho visto non cazzo a ver uno pari due a uno per te due a uno per me due a uno per me due a uno per me dai con la musica dai grazie 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 grazie